eccoci qua amici un privilegio la visita delle cantine bella vista siamo nel cuore della francia corta nella cattedrale del metodo della francia corta dove il panorama richiama tutti i valori questo territorio e siamo con nora che ci sta raccontando delle meraviglie della storia della famiglia moretti che ha fin dal dalla generazioni e generazioni vissuto questo territorio e la bellissima storia imprenditoriale di passione per il vino del dottor moretti che è il fondatore di questa meraviglia nora ci ha ricordato tante cose due mi hanno colpito il vigneto più antico adesso produce pino bianco quindi il nostro vigneto storico un ettaro di vigna dei monaci dei monaci allora i monaci sono parte della nostra del ma della nostra storia nostro percorso è il più vigneto è il vigneto più antico della francia corta risale 1500 noi lo abbiamo in affitto quindi non è nostro produciamo un corte franca molto particolare che appunto il convento della santissima ma è messo a posto i muretti a secco dei monaci che avevano fatto il 1500 però loro sono 190 ettari di vigna e quindi insomma una produzione importante un prodotto meraviglioso come lo è il grande grande magnum di meraviglioso adesso andiamo in cantina e ci vediamo dopo non andiamo